Ciao, sono Paolo di Backpacko e anche oggi un pacco di novità. Ben ritrovati al Barpacco, l'appuntamento settimanale dove guardiamo insieme tutte le novità, le iniziative e le promozioni di Backpacko. Oggi ne abbiamo tante, dobbiamo subito cominciare. Intanto voglio ringraziare tutti coloro che stanno seguendo con attenzione le vicende dello Snake 2022 che stiamo pubblicando appuntate qui sul canale YouTube di Backpacko. Per quelli che ancora non seguono questa fantastica serie sull'avventura, beh ma che state aspettando? Ok, cominciamo subito con le nostre cose, lo vedete da soli quanti prodotti nuovi abbiamo di cui parlare. Alcuni di questi prodotti sono già disponibili su Backpacko, altri arriveranno tra sabato e domenica, questo fine settimana. So che siamo tutti impegnati con i preparativi per le feste, ma il tempo di godersi le proprie passioni, di scegliere il proprio equipaggiamento, beh, quello non ce lo deve togliere nessuno. Anzi, io ad esempio proprio durante le feste spendo un po' più di tempo sul divano a guardarmi video, a guardare cose, cercare di capire quali potranno essere gli strumentini, i gadget e quali soprattutto le prossime avventure. Eh sì ragazzi, perché questo 2023 non è ancora arrivato, ma si preannuncia già ricco di avventure. Le vedremo insieme, le vivremo insieme. Il primo prodotto di cui parliamo è la Maxpedition Cup, Compact Admin Pouch. Questa è una pouch simile alla DEP che abbiamo visto qualche settimana fa, della stessa linea all'Advanced Gear Research. Quindi materiali moderni, tagliati a laser, estremamente ben fatta, dotata delle cinghiette molle in polimero. Queste sono facilissime da passare attraverso la maglia Pulse, la maglia molle per capirci, e soprattutto se avete bisogno le potete configurare in modo che anche lo sgancio sia altrettanto rapido. Questo se andate a sistemarci ad esempio attrezzatura di primo soccorso, o chi può dirlo, cosa vi serve improvvisamente. Questa è la cap. Io invece di spiegarla, come al solito, smonto un po' il mio equipaggiamento e ci vediamo insieme come l'ho sistemato. Qui sul davanti, vedete, c'è una maglia pannellata, tagliata a laser nell'ipalon, dove agganciare piccoli oggettini. Carino questo, no? Bene, io ci ho sistemato la lucetta e un accendino, una custodia per accendino zippo. Le zip, ragazzi, sono YKK e va bene, ma i cursori... Questo tipo di cursori sono una goduria, sono comodi, tosti, rapidi da aprire e soprattutto li trovi immediatamente. Sia che riesci a infilare il dito e quindi sfruttare la comodità, sia che la afferri e apri. Belli, belli, belli. Dovrebbero farli tutti così i cursori. Apriamo la tasca piccolina, ma piccolina si fa per dire, perché ci entra tra gli innumerevoli elastici, acciarino, un Leatherman, due penne, addirittura ci sistemate quello che volete, lo spray per pulire gli occhiali e... Sì, una cannuccia in acciaio per evitare quelle monouso, che di carta fanno schifo. Bigliettino da visita e classica cinghietta con il moschettoncino. Guardate la serie AGR, ha questa cerniera qui. Riuscite a vederla, è uno spettacolo! E io ci ho applicato la torcia che mi ha regalato un'altra Olight stupenda, il mio amico Giuseppe. Grazie Giuseppe, questa è un'altra bellissima Olight. Sono comodissime queste piccoline, vanno con una sola batteria AAA, proprio da collegare a queste cinghiette negli zaini e nelle pouch. Comunque, se vi dovesse servire, la sganciate, la mettete da parte. Qui avete anche, eventualmente, altro spazio. Beh, ci sistemate quello che vi va. Nella tasca più grande, perché questa era la tasca piccola, ma nella tasca più grande, e qui parliamo comunque di una gran bella pouch tosta, i colori disponibili e i dettagli sempre su Backpack.it, nel link qui sotto in descrizione. Noi ce la spupassiamo un po' così. Allora, io ci ho sistemato una torcia militare, perché fa tanto tactical, e mi serviva, non è vero, mi piaceva. Qui abbiamo delle salviettine contro le zanzare, perché in alcuni posti, in alcune salarie riunioni, ancora vivono le zanzare. In alcuni hotel ancora ci sono le zanzare. E' comodo averli. Fazzolettini, un coltellino EDC, che non manca mai, il Rau, in questo caso di extrema razio. Una penna che scrive dappertutto. Uno stick per il sole, perché quando si fa sulla neve, adesso comincia a essere importante proteggere le aree esposte del volto, almeno per me, che sono delicato. e proteggerle con uno stick solare. La crema magari dà un po' fastidio, però lo stick è comodo, sta lì. E un'altra tasca sul retro, con un blocchettino di Right in the Rain. Quindi, vedete da soli, qui ci sarebbe anche un anellino in paracord, e sui lati due gancetti, per eventualmente collegare una tracolla, vedete da voi Maxpedition, che diavolo tira fuori con una pouch. Io le adoro, queste AGR sono anche molto belle. Sì, sono bellissime. Ci va dentro di tutto, ci sistemate quello che vi serve. Io consiglio sempre di tenerne qualcuna a casa, anche vuota, anche non utilizzata, perché nel momento in cui preparate lo zaino per un'escursione, o vi preparate per un'avventura, torna sempre utile prendere una pouch e radunare tutti i piccoli oggetti all'interno di una di queste. In questo modo li trovate sempre a disposizione dove li avete messi. Ora, andiamo avanti. Prossimo articolo esce tra oggi e domani su Backpack.it, Petzl Taktica. La Ticca è una torcia di Petzl, questa è la sua versione tattica. Questa torcia esiste in tre colorazioni, ve le faccio vedere, ma le trovate ovviamente su Backpack.it. E sono la versione camo, la versione nera e la versione desert. Ora non mi metto ad aprirle tutte, però vi faccio vedere la mia, che è la RGB. Torcia estremamente comoda e semplice da usare. Robusta, non le manca niente. Come vi dicevo, questo è il modello RGB, ma c'è anche il modello semplice, quindi con la sola luce bianca e quella rossa. Quella rossa, per chiunque vive un po' il bosco, per chiunque fa escursioni in estate, beh, quella rossa è la salvezza, perché evita che gli insetti arrivino tutti in faccia a chi indossa una torcia bianca, come invece succede appunto con la luce bianca. È vero che ha pure l'aspetto tattico di essere meno visibili, di non farsi notare dai nemici, ma per me, ecco, i nemici sono giusto questi insetti che arrivano da tutta la provincia appena io accendo una torcia. L'alimentazione, perché è una cosa fondamentale di queste torce, va con le tre batterie AAA che vi arrivano in dotazione, oppure, sempre disponibile su Backpack.it, la Petzl Core. Questa è una batteria a litio ricaricabile con il cavetto USB, ed è la salvezza. Ottimo, ovviamente, anche alimentarle con le batterie ricaricabili o con batterie di questo tipo a litio. Ma io tengo questa soluzione per emergenza, oppure per quelle torce come quella presente in automobile che non uso tanto spesso. E allora sì, batterie non ricaricabili, batterie a litio, ma quando si arriva alla torcia che uso durante le escursioni davvero, allora Petzl Core, che tra l'altro arriva con il suo cavetto qui, ed è sempre comodo avere un cavetto dedicato, lo lasciate nello zaino vicino al power bank, e sapete che potete ricaricare la vostra torcia anche durante le escursioni, anche durante i pernotti. Quante volte capita di dover ricaricare la notte la torcia, proprio perché magari fate un'avventura lunga, come un cammino che prevede tante notti, e magari siamo pure in quel periodo dove è piacevole camminare la sera, perché ecco, in estate fa più fresco, ecco che è una batteria ricaricabile, o ne portate due, non pesano niente, beh, vi farà piacere averla. La si inserisce qui come un pacchetto di batterie normalissimo, chiudiamo e stiamo pronti a vedere un po' come funziona la torcia. Ok, altra cosa apprezzabile delle Petzl Tacticca è un solo pulsante. Un solo pulsante, lo voglio ripetere perché per me è fondamentale nelle torce avere semplicità. Questo lo trovi facilmente, è gommato, lo trovi con le mani nude, lo trovi col freddo, lo trovi con i guanti, sai dov'è, dopo un po' lo impari, è lui, pulsante. Si accende con la modalità più bassa, quella per lavorare a lunghezza braccia, dico io, per illuminare il giusto e lavorare con le proprie braccia. Se invece stiamo camminando, vi basterà ripremere il pulsantino, seconda modalità, siamo leggermente proiettati in avanti, e abbiamo bisogno di vedere cosa succede oltre il nostro braccio, perché stiamo camminando. E se invece ci dovesse servire ancora più potenza per dare un'occhiata meglio a quello che ci aspetta, o se siamo ad esempio in bicicletta, uno su un mezzo, dobbiamo vedere ancora più avanti, proprio perché ci arriveremo molto presto a quell'ostacolo, quindi avremo la necessità di vederlo. Uno, due e tre. Questa è la massima potenza e la massima proiezione. In tutti i casi, in ognuna di queste modalità, il raggio è misto. Che significa? Con le torce frontali, ma anche con le torce classiche che portiamo in tasca, bisogna sempre considerare quanto il raggio illuminante è largo e quanto è profondo, cioè quanto è la gittata. A volte servono grandi gittate, poca ampiezza, a volte un misto di tutte e due. Con le torce frontali, secondo me, Petzl spacca. Spacca proprio perché va a prendere entrambe le necessità. Vi dà una visione periferica, corretta dell'ambiente, e una visione leggermente più pronunciata in avanti, perché magari guardate a terra, magari guardate proprio dopo un ostacolo. Ok, RGB. Come si accede all'RGB? Per cambiare modalità, per cambiare colore, vi basta tenere premuto. Io accendo la mia torcia, in qualsiasi momento tengo premuto, e diventa rossa. Se ripremo, mi diventa lampeggiante. Utile in alcune operazioni, in alcune situazioni. Io spesso uso semplicemente questa rossa. Come si può notare, altra caratteristica eccezionale, la torcia ricorda come l'abbiamo lasciata. Quindi se io ad esempio sono in modalità sterale, tra gli amici, stiamo dormendo in tenda, e ho lasciato la torcia in modalità rossa, con questa la riaccendo, la ritrovo in modalità rossa, e non disturbo nessuno, facendo la discoteca, cercando di capire come funziona la mia torcia. Se dovessi passare all'altro colore, che dovrebbe essere il verde, a questo punto RGB, red, green and blue, ovviamente tengo premuto, e anche il verde, volendo, ci lampeggia. Così come, se voglio passare al blu, tengo premuto, e c'ho il blu, che lampeggia. Ora, ci sono anche delle ragioni tattiche, magari le esploriamo un giorno con qualche esperto, per utilizzare colori diversi. Quello che posso dirvi è che il rosso, lo adorerete in tutte le vostre attività outdoor estive, il verde è molto utile, nel caso in cui ci troviamo, a dover intervenire di notte, su delle ferite. Delle ferite che magari, proprio con la luce rossa, andremo un po' in confusione, con la luce bianca, magari attiriamo appunto troppi insetti, ci dà fastidio, troppo l'attenzione. E la luce verde è quella che usano proprio alcuni medici e soccorritori, proprio per vedere meglio le ferite, e vedere meglio un po' con la fuoriuscita del sangue, le emorragie, eccetera. La cinghia estremamente regolabile di Petzl, sempre comodissime. La cinghia di una torcia frontale, è come il manico di un coltello, è quello che vi permette di godervi una buona torcia. Petzl fa scuola, come al solito, cinghie stupende, e questa ha anche lo sgancio rapido. Sgancio rapido che vi permette, se indossate un casco, un elmetto da militare, o anche un casco da arrampicata, da attività, da parco avventura, fate quello che volete, vi permette, ad esempio, ora si sentirà del rumore, ma vi permette di agganciarla qui. Altro sistema che io uso spesso durante le avventure, portare la torcia un po' più bassa rispetto alla testa. Questo mi permette anche di evitare, con queste torce che non hanno la regolazione automatica, come invece gli altri modelli di Petzl, la Swift RL Pro o quella normale, li trovate sempre qui in descrizione, o su backpacko.it, beh, non avendo la regolazione automatica, se mi giro con una torcia alla massima potenza, vado ad accecare i compagni. Invece in questo modo, ho sempre la torcia a disposizione, ma non do fastidio mentre parlo. Trucchetti da bosco che si imparano, quando ti porti in giro qualcuno che ha magari con lui una torcia da speleologia e ti fulmina le corne. Sappiamo tutti di chi sto parlando. Ovviamente anche per la tattica sono disponibili, ma ve li presento presto, un sacco di accessori che vi permettono di collegarla alla bicicletta o al casco, e questo ci aiuta ad utilizzare sempre un'ottima torcia. Quindi a non ricomprare gli oggetti più volte solo perché poi non abbiamo come sistemarli. La tattica è quella che io uso ad esempio sul mio casco da avventura, da speleologia. E qui ci attacco la mia torcia e eccola, stacco di qua, stacco di qua, semplicissimo. Vado dove mi pare. Bene, tutte le indicazioni tecniche su questa torcia le trovate su backpack.it. Considerate però che questa è la tattica plus, cioè il modello un po' più spinto, un po' più potente e infatti arriva a 350 lumen. C'è in giro anche l'altro modello, la tattica più semplice, che però non è disponibile adesso su backpack.it perché a noi ci piacciono le cose plus, pro, potenti, le più forti. Ok, ok, lo state guardando tutti dall'inizio della puntata, sapete che c'è, sapete che è già disponibile su backpack.it il Rapid Sling Pack di 5.11. Zainetto monospalla, un po' tuttofare. E' adorabile questo zaino qui. A proposito, avete visto la nuova patch di backpack? E' stupenda, no? Non sarebbe bello che ognuno di voi potesse realizzare le proprie patch, come questa. Ne parliamo prossimamente. Nel frattempo, nel frattempo, zainetto è estremamente configurabile, anche difficile da spiegare, proprio perché potete portarlo in molti modi. Non sto io a fare tutti gli esempi qui di persona, perché li trovate su backpack.it. Ora ce lo smontiamo un attimo, vediamo come è fatto. Pannello molle, compatibile con il companion di questo zainetto, cioè il marsupio Rapid Waste Pack, sempre di 5.11, sempre disponibile sulla pagina di questo prodotto. Questa riga molle è anche velcro, ma si vede benissimo. Logo di 5.11 ricamato nel velcro, dove io sistemo la mia patch. Vediamolo prima a 360 gradi, poi entriamo dentro. Si vede benissimo che la Zip YKK qui ha una sua tasca, una tasca per la mappa, una tasca per i soldini, qualsiasi cosa ci volete sistemare. E' una tasca di quelle piatte, quindi molto adatta a foglie, eccetera. Ma si gioca lo spazio con quello che mettete dentro, quindi decidete voi se volete caricare più dall'esterno o dall'interno. Cinghia di compressione. Su questo tipo di zainetti, su questo tipo di monospalla, non sono comunissime, ma sono estremamente comode. Un po' per due cose. Una è ovviamente quella di utilizzarle come cinghia di compressione e chiudere il carico, fissarlo bene. L'altra è quella di poterci agganciare accessori. Ad esempio una felpa arrotolata che magari non entra nello zaino, io la sistemo qui, stringo bene e ho sistemato la mia felpa. Maniglietta comoda, perché lo dovete spostare in qualche modo. Schienale 3D estremamente traspirante. Ci permette anche di configurare la cinghietta dello stabilizzatore, cioè quella cinghietta ulteriore che nei monospalla ci garantisce di tenere fermo il carico anche se ci stiamo muovendo un po' più velocemente. Lo spallaccio usa il sistema della MP10. Ve l'avevo già fatto vedere qualche altra volta, ma ci torniamo volentieri. C'è un gancetto AG in Duraflex e questo blocco in acciaio armonico che tiene fermo il tutto. Con estrema semplicità io lo sfilo via e vedete come posso fare la stessa cosa per tutto lo spallaccio. Anzi, lo faccio proprio così continuiamo a parlare dello zaino senza doverci preoccupare dello spallaccio. Anche la cinghietta si stacca nello stesso identico modo. Schiaccio per bene, libero il gancetto e lo tiro via. Ok, lo spallaccio l'abbiamo messo da parte, abbiamo solo il nostro zaino. Guardate che bello il loghino qui sul davanti di 511. È bellissimo questo che è kangaroo. Bello. Ah sì, ci sono altri colori. Ovviamente ci sono altri colori. Ovviamente sono disponibili su backpack.it e ovviamente ve li dovete andare a cercare perché non ho potuto prenderli tutti, non avevo lo spazio adesso. Ma trovate il link in descrizione. Io volevo solo farvi vedere che qui c'è l'altro passante. Quindi abbiamo ben quattro passanti passanti per configurare il porto come ci piace. Questo è uno zaino che potete anche usare così direttamente in macchina, direttamente come kit d'emergenza, come kit di qualcosa ve lo sistemate. Essendo uno zaino di 511 ed essendo pensato per gli operatori quando lo si porta così o quando da dietro le spalle si fa girare e lo si posiziona così, beh, non ve lo devo dire io perché mi basta infilare la mano qui ed estrarre indovinate un po' la pistola. Non tutti hanno bisogno di portare una pistola nella vita di tutti i giorni in borghese, insomma, di portare una pistola con sé. Io sicuramente non ne ho bisogno però la possibilità di allocare qui con la mattonella in velcro la light writing patch che conoscete bene e gli spray al peperoncino della SPK disponibili su backpack.it beh, quella è una cosa che mi fa piacere. Quindi sistemo tutto qui dentro e se mi dovesse servire tiro fuori quello una penna tattica una torcia tattica insomma ognuno ha le sue esigenze. Ora per capire bene questo zainetto lo dobbiamo aprire tutto. Altra peculiarità del Rapid Sling Pack è proprio quella di avere il sistema quad zip. Quad zip significa che ha ben 4 zip quindi io posso accedere dall'alto al mio contenuto o se so già che qualcosa è sul fondo mi basta tirare infilare la mano e prenderla. Ora queste tasche sul fondo potrebbero anche essere attenzionate da qualche soggetto che ci vuole sottrarre della roba senza che noi gli diamo il permesso. Quindi 511 finisce con questo elastico che ci permette di fare questo. Passare il cursore dietro l'elastico è una cosa semplice e una volta che l'abbiamo passato tirare e vedete come adesso è molto più difficile accedere alla tasca di dietro insomma ti ci devi proprio impegnare a quel punto uno se ne accorge e magari no non si fa. Ok lo rimetto a posto apriamo completamente vi potrei dire i litri di capienza ma so che con voi faccio prima così ci ho messo il mio Swogman Roll che pure è un prodottino che ci piace quanto ci piace lo Swogman Roll di Helicon beh lo scopriremo nei prossimi giorni forse come vedete l'apertura dello zaino è più che a conchiglia cioè si apre proprio a frittata che ne so si apre completamente vi dà accesso a tutto lo zaino per l'organizzazione qui trovate una cinghietta in nylon con del velcro perché è possibile anche sistemare all'interno di questa tasca retinata una sacca idrica che poi uscendo con il tubetto vi permette di bere infatti lo spallaccio ha il suo passante proprio per il tubetto ma è un'esigenza su questo tipo di zainetti un po' per pochi credo comunque rimane un'ottima tasca retinata per sistemarci quello che vi piace sul pannello che si apre la parte frontale diciamo la parte del pannello che chiude lo zainetto troviamo due tasche sono due tasche retinate questa è comodissima perché è accessibile ovviamente da tutti e due i lati questo se avete lo zaino così accedete se l'avete così se lo avete in questo modo lo stesso e all'interno della tasca ci sono delle cinghie elastiche per sistemare multiuso monocoli penne quello che volete portare con voi si anche dei caricatori ci stanno particolarmente bene tipo così per capirci lo so che tra di voi ci sono più tattici guardate come ci sta bene il caricatore ragazzi questo è 511 un occhio all'aspetto tattico operativo lo trovate sempre anzi siamo noi che andiamo a declinare questi prodotti nella vita di tutti i giorni ma sappiamo bene quali accortezze ci sono dietro la progettazione di queste linee il taschino qui disponibile è accessibile sempre retinato con la possibilità di prendere un po' quello che ci serve e ha un moschettoncino in duraflex direi che ce lo siamo visto tutti come al solito i dettagli i colori e le disponibilità su backpack.it qualora non trovaste il colore che vi piace il modello che vi piace beh scrivete la vostra email nell'apposita casellina riceverete un avviso appena torna in magazzino e adesso scommetto che qualcuno di voi li aveva notati qui di fianco a me extrema razio il Selvans ragazzi il Selvans è il coltello è il coltello da campo uno dei miei coltelli preferiti disegnato sempre per extrema razio da Daniele Dalcanto ed è il suo primo coltello anzi sapete cosa domani alle 14 ci esce un bel video sul canale youtube di Backpack dove ve lo spiega proprio lui io per il momento vi mostro un po' le versioni questa è la versione Expeditions che arriva con il suo fodero è tutto desert manico in forplene comodissimo coltello ragazzi venite a trovarmi durante qualche evento e lo proviamo insieme me lo direte quando ci avete giocato che ne pensate il fodero è un'altra opera di ingegneria di come solo l'extrema razio sa fare all'interno del taschino qui trovate del paracord che è in realtà un esca per il fuoco un acciarino c'è anche lo striker ma si può usare tranquillamente questa parte del coltello dove vedete c'è proprio l'indicazione delle scintilline per fare il fuoco vi faccio vedere anche le altre versioni questo è un po' quello classico tutto brunito stupendo vi rimando al video con Daniele per capire le impugnature e i sistemi per utilizzare questa lama che ha effettivamente una geometria particolare e questo è il fodero della versione nera un fodero verde che davanti ha una pannellatura molle questa pannellatura può servire per sistemare accessori per sistemare kit come questo sempre di extrema razio guardate che bello è un kit da sopravvivenza bene un kit di sopravvivenza non va mai preso alla leggera va sempre capito esplorato questo è in dotazione anche ad alcuni reparti delle nostre forze armate e ovviamente ci si trova di tutto fischietto piccola torcetta led acciarino filo d'ottone per le trappole le riparazioni bussola l'abbiamo vista paracord pasticche per portabilizzare l'acqua una piastrina per affilare il coltello lo striker per l'acciarino ed una sega a catena per i rami più grandi un giorno ce lo portiamo nel boscolo andiamo a provare proprio in una condizione di sopravvivenza per il momento è un ottimo kit da abbinare al vostro coltello se però fate anche qualche corso o studiate per imparare a sopravvivere e chi meglio dell'ideatore di questo coltello proprio Daniele Dalcando può insegnarvi come utilizzare il suo kit in situazioni di vera emergenza trovate il link alla scuola di Daniele proprio in descrizione vi faccio vedere anche il modello Desert che arriva con il suo fodero anche lui di colore Desert stavolta sempre con l'attacco molle quindi per quelli che si chiederanno quali sono le differenze tra i due coltelli che sembrano simili e cioè il modello Desert e questo Expeditions beh le differenze sono nella finitura qui abbiamo solo una brunitura mentre qui c'è prima una brunitura e poi una ripassata né una lavata con la roccia come sappiamo vengono rifinite le superfici dei modelli Expeditions in mani quello stesso cambia il paracord e soprattutto cambia il fodero di nuovo vale la pena vedere le differenze poi si vedranno anche nel video con Daniele qui avete un pannello molle una linea un tantino più aggressiva di sicuro qui avete una pocetta una tasca una taschina dove sistemare qualcosa e un acciarino in dotazione io vi ricordo che per tutti gli accessori e le lame che hanno preso parte alla spedizione Snake riceverete anche una bellissima patch dedicata una patch da supporter in omaggio su Backpacko.it ma fino ad esaurimento scorte lo sapete che mi piace coccolarvi vi arriva con il Selvans in regalo l'affilatore a doppia faccia di Extrema Ratio questo affilatore questa pietra è una pietra da campo una pietra piccola di piccole dimensioni molto comoda da tenere nello zaino dove un lato è più ruvido e l'altro un po' più sottile un po' più liscio come si usa? beh magari lo vediamo in un altro video ma si tratta sostanzialmente di passare la lama al giusto angolo e nella giusta posizione ora se comincio a farlo non finisco più e per gli stessi numeri di passate ok ragazzi non è il momento di mettersi a fare così io addirittura sto cercando di avere sulla parte della punta questa è una cosa mia che ho imparato un po' da Daniele e comunque da tanti utilizzatori di questo coltello sulla punta su questa parte qui di fare un angolo ancora un po' più pronunciato un angolo un po' più affilato perché ci permette impugnandolo in questo modo di andare a lavorare a giocare con i legnetti ed è estremamente divertente beh è un coltello da impatto è un coltello tosto un vero coltello da sopravvivenza un vero coltello da campo è estremamente divertente e soddisfacente da usare non so spiegarvelo meglio provatelo provate la soddisfazione di dare i colpi con un Selvance e capirete che cos'è l'avventura quindi disponibili su backpack.it con l'affilatore a doppia faccia di extrema razio in omaggio fino ad esaurimento scorte io adesso vi devo salutare siamo andati un po' lunghetti con questo barpacco ne abbiamo viste di cose e tante altre ne arriveranno nei prossimi giorni ma per il momento davvero è tutto vi ringrazio per essere stati con me vi saluto vi ricordo soltanto che sul canale youtube usciranno altre puntate dello snake 2022 non perdetevi questa avventura e quindi iscrivetevi al canale schiacciate la campanella così riceverete le notifiche ogni volta che è pronto un nuovo video per il momento è davvero tutto alla prossima e quindi iscrivetevi al canale